Un consiglio comunale molto importante è quello tenuto Sistamani a Pozzuoli. Tre i temi al centro del dibattito, rione terra, emergenza rifiuti e beni archeologici. Un'assise molto partecipata. Alla seduta era presente un nutrito gruppo di rappresentanti di commercianti e di disoccupati. La seduta prevedeva inoltre l'approvazione di diversi debiti fuori bilancio, ma il dibattito si è subito incentrato sui lavori che interessano il rione terra da oltre un ventennio. Lavori in corso che ne impediscono la fruizione. Ciò perché nonostante alcuni lotti della vecchia rocca putiolana siano stati ultimati, non sono visitabili a causa del protrarsi dei lavori che sembrano non avere mai fine. Dobbiamo riappropriarci del rione terra, afferma l'ex sindaco Enzo Figliolia, e renderlo fruibile alla cittadinanza. Il rione terra è dei putiolani che aspettano da troppo tempo la fine dei lavori. Sul punto in discussione intervengono il consigliere di Sinistra Ecologia e Libertà Luongo, il consigliere del PD Buono, il capogruppo del PDL Cutolo, il consigliere di Futuro e Libertà Maione ed il consigliere dell'Udc Poglio. Tutti hanno fatto una disamina della situazione, concludendo che è necessario il completamento dei lavori in tempi celeri anche con l'intervento di privati. Urge inoltre decidere in merito alla gestione del sito. A questo punto il consigliere del PDL Iasiello ha proposto una sospensione della seduta per una riunione dei capigruppo, al fine di trovare una soluzione condivisa. Dopo oltre un'ora di discussione, la conferenza dei capigruppo stila un documento in cui si evidenziano tre punti salienti, dare mandato al sindaco per la presa in consegna degli stabili ultimati e renderli così immediatamente utilizzabili. Istituire un tavolo di lavoro tra sindaco e capigruppo per individuare un modello di gestione e partecipazione dei privati per il completamento di alcune opere e quindi la relativa gestione. Il documento è stato approvato dal civico consesso con un solo voto contrario, quello di Salvatore Maione, Fli, e un astenuto che era assente al momento della votazione. Mario Marrandino, dell'Udc.